Dopo domani dalle 8.30 in programma una manifestazione con corteo in centro promossa in occasione della giornata della memoria per le vittime innocenti della mafia. Circa 40.000 persone partiranno da Piazza dell'Esquilino per arrivare nell'area del Circo Massimo dopo aver percorso via Merulana, via Labicana, via Ceglio Vibenna, via di San Gregorio e via De Cerchi. In testa al corteo ci saranno i familiari delle vittime di mafia che si troveranno sin dalle 8 nel tratto di via Merulana compreso tra Piazza di Santa Maria Maggiore e Largo Brancaccio. Fino alle 13 circa possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 18 linee del trasporto pubblico.